L'antigravi di yoga nasce in America e il maestro è il nostro Christopher Harrison. È un'attività nata a 30 metri di altezza, ma l'hanno abbassata per renderla possibile a tutte le persone. È un insieme di più discipline, ovviamente dal nome al 60% viene dallo yoga, ma comprende il pilates, girochinesis, agrobatica, danza, quindi è un mix di discipline. Come dice il nome stesso, andiamo a combattere proprio la forza di gravità, quindi non andiamo a gravare sulle articolazioni, ma la grande componente è il divertimento. È come entrare nell'isola che non c'è di Peter Pan. L'antigravi di ha tantissimi benefici, uno dei fondamentali è proprio l'allungamento di tutta la colonna e andiamo a creare nuovi spazi fra i dischi vertebrali. Non è solo questo, ha un bellissimo effetto anti-age, tutto il flusso del sangue si inverte e andiamo proprio a distendere completamente il nostro viso. Emettiamo gli ormoni della felicità, quindi c'è proprio tutto un benessere e un ringiovanimento all'interno del corpo che ovviamente poi si percepisce anche all'esterno. In più è un'attività in cui noi liberiamo la nostra mente e liberando la mente si libera automaticamente anche il corpo, lo spirito, quindi il corpo rinasce totalmente. Quindi i principi dello yoga sono essenziali in questa attività. È da provare perché se non lo provi l'antigravity non ti rendi conto neanche di quello che il tuo corpo riesce a fare. Provatelo perché è veramente una grandissima attività della quale non farete più a meno.